Ciao a tutti, oggi vi mostro un caricabatterie a tutti in uno per quanto riguarda il ricarico contemporaneamente iPhone, Apple Watch, Airpods o comunque cuffie compatibili con la ricarica Max e wireless veramente fantastico, bellissimo e super super interessante Il ricaricabatterie di cui volevo parlare è questo qua che vedete che a parte il design che è bellissimo, però guardate il design che è stupendo che ho fatto così a modi mezzaluna, comodissimo ed è anche molto molto compatto qui sotto c'è un led che si illumina quando noi andremo a mettere il telefono in ricarica quindi lampeggerà se il telefono non è in ricarica correttamente e invece la luce blu fissa vuol dire che è correttamente in ricarica poi vi farò vedere, qua abbiamo una basetta, un attacco MagSafe quindi compatibile dagli iPhone 12 in avanti e anche con tutti gli smartphone che potrete rendere compatibili MagSafe tramite l'apposito anello che vi lascerò comunque qua in alto o qui in basso il video apposito e arriva a ricaricare fino a 15 watt quindi alla massima potenza che può arrivare a ricaricare gli iPhone di ultima generazione basetta per quanto riguarda poter caricare l'Apple Watch e inoltre anche la basetta per poter caricare un paio di cuffie che sia in AirPod o comunque cuffie compatibili con la ricarica wireless ma ora vi farò vedere proprio bene e guardate anche una cosa io ora andrò ad attaccare il mio iPhone, si attaccava magneticamente e guardate appare anche l'animazione della ricarica MagSafe quindi l'iPhone lo legge effettivamente come se fosse un caricamattere MagSafe originale dell'Apple quindi ragazzi questo qui ve lo straconsiglio perché l'ho trovato su Amazon è bellissimo, un design fantastico, ultra compatto perché sta tranquillamente sulla scrivania senza occupare posto e naturalmente in confezione troverete anche un filo, il cavo di ricarica io ho sotto il mio però è compatissimo, è molto molto bello e con un solo cavo e con un solo stand potrete caricare contemporaneamente smartphone, Apple Watch e AirPod, quindi veramente ottimo